Siamo all'inizio del nuovo anno liturgico, con l'avvento. E direte, ma non era appena cominciato? Eh sì, sono già passati 12 mesi. Ma quanti anni liturgici ho fatto io? Quanti avventi? Magari ne hai già fatto una sessantina, una ottantina. Ecco però, questo ritornare. Ecco Don Riccardo, l'anno liturgico che ritorna e riprende ancora il suo cammino e il suo ritmo. Qualcuno dice, ma le sai perché? Comincia a essere un pochettino annoiato. Entra dentro un fatto un po' abitudinario, è ormai riannedare, eccetera, e metterà fuori lui e via il preseppio. Ma perché la Chiesa ripropone costantemente l'anno liturgico e il cammino dell'anno liturgico? È per annoiare la gente? È per farci sedere su delle abitudini? O forse è proprio tutto il contrario. Ma se ci pensi Don Leone, l'idea della ciclicità non è solo una cosa della Chiesa, è iscritta un pochino nella nostra vita. Le stagioni non sono qualcosa di ciclico che ritorna una volta all'anno e nessuno dice che stu'fadan siamo in prima era, before my fear, magari ci annoiamo un po' di più con le foglie dell'autunno perché bisogna un pochino ramazzare e pulire i nostri cortili. Però è proprio iscritto nella nostra vita, questa dimensione di ciclicità, questo ritorno. E mi sembra, mi piace anche pensare che forse il Padre Eterno in questa idea di ciclicità che ha messo nelle stagioni, ma davvero in tantissimi aspetti della nostra vita, ci ha forse dato un pochino l'idea che la nostra vita parte da qualcosa di grande, diciamo noi cristiani creati da Dio, veniamo da Dio, per ritornare a Dio, no? Questa idea di ciclicità che ci fa, che ci dà proprio un pochino l'idea della grandezza della nostra vita. Penso che anche l'anno liturgico quindi, con il suo ripercorrere una volta all'anno i momenti principali della vita, ma del mistero, della presenza del Signore Gesù, perché non è solo un ricordare quello che ha detto che ha fatto, ma un imparare a riconoscere i segni della sua presenza del nostro tempo sia qualcosa che serve ad accompagnare un po' la nostra esistenza verso di Lui. È bella poi questa ciclicità, questo riproporre per accogliere, per approfondire, per capire meglio la bellezza del mistero cristiano in cui siamo coinvolti, ed è però anche una realtà ciclica che poi schizza verso un orizzonte eterno. In effetti non è un semplice ritorno come era nella visione greca anche un po' della storia, ma è una storia dentro la quale viene riproposto ciclicamente il mistero della presenza e dell'opera di Dio che chiama poi a uno sguardo che va al di là della storia. È quello un po', beh Riccardo, il senso della prima parte dell'anno liturgico, che è il senso dell'avvento, credo che un po' voglia richiamarci proprio questo. E sarebbe interessante proprio anche avere la consapevolezza. Ecco l'avvento, prima parte dell'anno liturgico, evidenzia proprio questi sguardi e forse è bello che li comprendiamo e li riconosciamo ancora, questi diversi sguardi che porta in sé l'avvento, che non è solo un prepararsi a ricelebrare il Natale come se non fosse accaduto, peggio ancora, ma dice qualcosa di molto di più. La mia gente sarà anche stanca di sentirmelo dire, ogni anno mi piace sempre mettere in evidenza che l'avvento, che noi pensiamo sempre sia il tempo dell'attesa del Natale, non è che per quattro settimane la Chiesa ci dice fai finta che Gesù non sia nato e poi la notte di Natale, il 24 dicembre, facciamo finta che Gesù nasca adesso e quindi siamo tutti contenti perché è un pochino una finzione. Ecco magari, voglio dire, nei confronti dei più piccoli questa connotazione, nasce Gesù, ci sta bene, ma nei confronti dei più grandi non è un fare finta, nella liturgia non si fa mai finta di nulla. Penso che la cosa più bella sia appunto l'allenarsi ad attendere il Signore che viene, non che viene sulla terra come l'incarnazione perché quello è già avvenuto, è qualche cosa che storicamente è già accaduto, però appunto questa dimensione dell'attesa, questa dimensione dell'andare incontro al Signore che viene, è qualcosa che deve accompagnare un po' tutta la nostra esistenza, quindi buona cosa che ci sia un momento dell'anno liturgico, che è il tempo di avvento, che ci aiuta sempre un pochino a dire guarda che come credente devi sempre essere uno che sta nell'attesa, ma anche i Vangeli delle scorse domeniche, dell'ultima parte dell'anno liturgico, ha insistito molto su questa dimensione dell'attendere, dell'essere pronti, dell'avere le caratteristiche di chi è pronto ad aspettare il Signore. Ecco uno sguardo quindi l'avvento alla storia, Gesù che è nato, chiaramente è un fatto storico, uno sguardo al Dio veniente, lo diciamo nella messa nell'attesa del tuo ritorno e penso anche uno sguardo al Signore che viene quotidianamente, che ci viene incontro nella nostra vita di tutti i giorni, Lui e nel volto di tante persone, nelle realtà che incrociamo, nelle cose buone e anche dentro le croci della vita, quindi vigilare, accogliere, attendere, incontrare questo Signore della nostra vita. Però Riccardo mi veniva un po' un pensiero, noi viviamo in una cultura, in un tempo che è connotato, lo sappiamo bene, da alcune caratteristiche che stanno un po', passatemi il termine, impestando la vita personale e comunitaria, un individualismo sfrenato, un consumismo becero, ma anche il fatto di vivere l'oggi, che cristianamente è una cosa bellissima, ma rischia di essere l'oggi che non riesce più a guardare avanti e a sapere che c'è una prospettiva. Non ce ne importa niente di quello che succederà, non ce ne importa niente che il Signore ritorni, quello che conta è quello che abbiamo sotto il naso adesso e allora ecco l'uomo che va a piluccare oggi di tutto e di più. Non è che noi stiamo vivendo, e forse qui il Vangelo va detto proprio per contrastare questa modalità balenga della nostra cultura che guarda l'oggi e non è più capace di alzare lo sguardo. Sì, guardiamo l'oggi, guardiamo il presente, ci accontentiamo un po' delle piccole cosette, non alziamo mai lo sguardo e soprattutto mi sembra abbiamo un po' paura a scrutare l'orizzonte e a spaziare quindi un pochino lo sguardo della nostra vita. Ecco, pensa quando anche magari così si pensa anche ai cristiani, alla fine del mondo, e uno alla fine del mondo lo immagina sempre come qualcosa di catastrofico, pensa quanti film sono stati fatti un po' su questo, una distruzione totale, qualche cosa di molto violento, di molto drammatico, però se ci pensiamo nella fede della Chiesa, appunto nell'attesa della tua venuta, la Chiesa è quella comunità di credenti che si sente chiamata a camminare nella storia, arricchita dalla presenza del Signore, con i segni concreti della presenza del Signore che agiscono nella nostra vita, che sono i sacramenti, con il conforto della sua parola, che è la scrittura ma che è la sua presenza perché Gesù è la parola di Dio fatta carne e che quindi rimane sempre presente e anima la vita della Chiesa, che cammina nel tempo sapendo che questo tempo merita di essere fecondato dalla presenza del Signore, della sua memoria tenuta viva dalla Chiesa perché il Signore alla fine dei tempi arriverà. Quindi il cristiano vede la fine del mondo non come lo sconvolgimento di tutto o l'esplosione della terra o la caduta dei meteoriti che schiacceranno e rovineranno tutto, ma vede la fine del mondo come l'arrivo del Signore Gesù, appunto re universale, si è celebrato l'ultima domenica dell'anno liturgico Cristo re dell'universo che arriverà sulla terra a raccogliere tutto il bene che c'è, a riconoscersi in questo bene, speriamo a donare la sua misericordia nei confronti di quel male che ha un pochino rallentato la costruzione del suo regno, davvero per spalancare un orizzonte di eternità. Avvento, prima parte dell'anno liturgico. Mi piace un momentino Riccardo soffermarmi ancora su questa parola perché dove c'è di mezzo la parola liturgia c'è qualcosa di troppo prezioso. Liturgia è l'azione del Signore Gesù insieme con il suo popolo, è un vivere momenti dove entra dentro la presenza viva di Gesù Cristo risorto che coinvolge noi, parliamo di liturgia eucaristica, della messa, di liturgia dei sacramenti, di liturgia della parola, di liturgia della preghiera. Ecco, la caratteristica è che è il Signore con noi che celebra, che fa preghiera, che fa i sacramenti e che sono gesti suoi. E mi pare importante questo, proprio perché non abbiamo a pensare che la liturgia è roba nostra, che la inventiamo noi, la facciamo noi e quindi anche la gestiamo un po' a modo nostro. È il Cristo con tutta la sua chiesa e lui è il capo di questa chiesa che celebra la lode, il ringraziamento a Dio Padre e cerca di animare appunto la comunità perché viva di questa grazia di Dio e di questa luce del Vangelo. Però Riccardo pensavo un po', la liturgia, come d'altronde la vita, quotidiana anche, è tutta fatta di parole, di gesti e di segni. Pensiamo alla messa, la messa è fatta di parole, di gesti e di segni. Il pensiero è, se un gesto non viene capito, se un segno non dice più niente, perde di significato anche la liturgia stessa. Non c'è un po' il rischio che ci siamo dimenticati o non ci hanno mai spiegato, forse non spieghiamo mai le valenze di questi segni. Faccio un esempio molto semplice che ha fatto anche il Papa Francesco in una sua ultima udienza generale, quando dice il segno della croce, che è il segno fondamentale e primo di un cristiano. Tanti non lo sanno neanche. Guardate i ragazzi come fanno certi segni di croce che sembrano che caccino via le mosche o non sanno neanche le parole che vengono dette. Ho il senso di questo gesto qui. Ora il pensiero che la liturgia che noi celebriamo ogni giorno, particolarmente ogni domenica nell'Eucarestia, sia fatta o rischi di essere fatta di gesti e segni non conosciuti, impoverisce la liturgia e a volte dice mi stanco, mi annoio, forse probabilmente perché non riusciamo a entrare attraverso gesti, segni e parole in quello che stiamo facendo e celebrando. Dovremmo un pochettino di più Riccardo riuscire a trovare il modo, il tempo per far passare un po' la comprensione di questi gesti e segni che fanno la liturgia. Ma senz'altro il comprendere è sempre qualche cosa che aiuta. D'altra parte però Don Leone dico anche che non dobbiamo, non dico non spiegare perché ci sono dei momenti apposta che sono i momenti di catechesi, penso anche alla formazione dei più piccoli, che dovrebbe prevedere un pochino anche una conoscenza di quelli che sono i segni, i gesti, le tradizioni dei cristiani, capendone anche con l'ausilio della ragione il senso. Però mi dico anche che non dobbiamo con queste spiegazioni qua appesantire il rito. Questa è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, quelli sacerdoti che magari in buona fede, che sono continuamente didascalici, che quando magari c'è una celebrazione un po' diversa dal solito perché c'è il battesimo, cioè a ogni gesto che si fa bisogna spiegare il perché, perché mi sembra che la gente non è stupida e mi sembra che se anche quel gesto viene fatto in maniera bella, non ostentata, non barocca per carità, ma fatta bene, poi dopo comunque ti lascia dentro qualcosa che magari ti spinge a capire del significato e quando magari ne comprende il significato capisci anche perché quel gesto è stato comunque evocativo, significativo. Quindi ecco, mi sembrerebbe come se uno va a un concerto musicale che ti trovi lì un critico che parla sopra la musica e ti spiega tutte le logiche che ci stanno sotto. Sarebbe noioso, ti viene da dire, fai silenzio che vogliamo ascoltare, come quando magari si vede certe partite, che senti il cronista, che avete di fascito, che siamo capaci anche noi di vedere e di capire senza bisogno di sentire sempre tutto. Quindi il capire sì, ma che questo credo non debba mai appesantire il momento del rito perché sarebbe, questo chi sarebbe noioso, sarebbe qualche cosa che stanca. Anno liturgico, voi sapete che adesso ogni anno si cambiano le letture per esempio della messa. Parlano di anno A, anno B, anno C. Ogni anno un Vangelo particolare. Quello che andiamo a iniziare di anno liturgico ci aiuterà ad entrare nell'ottica e nel Vangelo secondo Marco. Marco non era un apostolo, Marco è un evangelista, cioè ha raccolto dalla voce degli apostoli, pare soprattutto di Pietro e poi ci ha offerto questo parlare di Gesù, raccogliere la sua voce, la sua storia, il suo mistero di morte e di resurrezione. Don Riccardo, tu che sei abbastanza fresco di studi teologici e poi ti aggiorni regolarmente, possiamo così tratteggiare in modo che prendendo in mano e sentendo quest'anno il Vangelo di Marco, intanto in che cosa si può differenziare e i Vangeli, ma non sono tutti uguali i Vangeli, non parla tutti di Gesù Cristo, oppure ecco Marco ha qualche caratteristica particolare. Dunque, beh, hai già ricordato che Marco non è uno dei dodici ma raccoglie sicuramente la testimonianza di Pietro. Vediamolo un po' in chiave moderna, possiamo dire che Marco è stato, se il Papa ha il suo segretario, è stato un po' il segretario di Pietro e quindi ha raccolto la sua testimonianza e l'ha messa per iscritto. Quindi il suo destinatario non è stata immediatamente la Chiesa universale. Quando Marco scrive il suo Vangelo ha sott'occhio una comunità concreta che è quella comunità di credenti che non viene dall'ebraismo. Quello è Matteo che ha scritto il Vangelo per quei cristiani che prima erano stati ebrei e quindi Matteo mette sempre in luce il fatto che Gesù è il compimento delle antiche profezie. Marco invece non ha bisogno di fare questo perché tante volte questi qui sono molto digiuni delle antiche profezie, sì, giustamente si formano anche sull'Antico Testamento ma non sono così addentro come poteva essere un israelita. Quindi Marco per esempio nel suo Vangelo mette tante spiegazioni di quelli che sono i termini ebraici, tradizioni ebraiche, uso ebraico proprio perché nel suo scritto potesse dare una comprensione maggiore anche del mistero di Gesù, della presenza di Gesù nei confronti anche da quel mondo ebraico che non apparteneva immediatamente al retroterra di queste persone. Ecco, il Vangelo di Marco è il più breve, sono 16 capitoli, è un Vangelo che parte dalla predicazione di Giovanni Battista, quindi Gesù adulto, non dice assolutamente nulla sull'infanzia, sulla vita nascosta di Gesù e dà un grande spazio soprattutto all'ultima settimana di Gesù, quindi la passione, la morte, la risurrezione e anche il Vangelo più breve dal punto di vista della lunghezza dei capitoli, semplice magari anche come lingua, il greco che ho utilizzato è un greco abbastanza semplice, io che non ho fatto studi classici, quell'infarinatura di greco che mi hanno dato se è partito dal Vangelo di Marco perché tutto sommato è capibile anche da un principiante, però ecco questo non significa che non ci sia dietro un piano teologico molto saggio e molto intelligente, anche se comunque la forma di espressione è molto semplice e molto popolare. Sto pensando anche a questi aspetti dello stile di Marco, questo disegno ovviamente del Vangelo, ma anche il suo modo, il suo stile di raccontare, il fermarsi per esempio sui particolari, è qualcosa di eccezionale veramente quando Gesù si trasfigura sul monte, dice la sua veste divenne candida bianchissima, parentesi nessun lavandaio sulla terra sarebbe capace di renderla così bianca, oppure gli apostoli che sul lago viene una tempesta solo sulla barca e Gesù era poppa con la testa reclinata su un cuscino. Sono particolari che chiaramente non fanno l'essenziale del Vangelo, però dicono di questa attenzione, di questa coloritura che l'evangelista Marco sa dare al suo Vangelo. Anche questo direi è un po' un modo anche per chiamare al fatto che il Vangelo è per il vivere, per la quotidianità, Gesù è attento ai particolari della nostra vita, non solo a un discorso generale o peggio ancora generico. Ecco, credo proprio che l'evangelista Marco sappia interpretare bene anche questo sguardo di Gesù sulle cose semplici, sulle cose piccole, sulle cose quotidiane per farci capire che in fondo poi la vita è fatta di queste cose e che viene valorizzata se sono belle e esprimono bene queste cose della quotidianità. Ascolteremo quindi nell'arco dell'anno appunto il nostro evangelista Marco che ci accompagnerà. A questo punto caro Riccardo non dobbiamo far altro che fare un po' di auguri, il nuovo anno dovremmo anche brindare, mi hanno detto forse ancora con che cosa brinderemo noi, dovremmo brindare con l'acqua benedetta perché altrimenti siamo fuori dalla liturgia. Va bene che nella liturgia si usa anche il vino per celebrare l'eucaristia, quindi passi che possiamo fare un brindisi anche con un po' di vino buono. Ecco, un brindisi perché il nuovo anno liturgico ci aiuti ad incrociare il Signore Gesù, ci aiuti a incrociare la sua storia, la sua parola e ci aiuti a sentirci coinvolti perché è la salvezza che ci viene offerta nel tempo e che ci proietta appunto come ci ricorderà l'Avvento in questo cammino anche di eternità buona in cui speriamo di essere un po' accolti dalla grazia e dalla misericordia del Signore. Grazie Don Riccardo della tua presenza e testimonianza, grazie e anche un saluto, devo ridirlo, ma ho incontrato ancora alcune persone che mi hanno accennato un pochettino al fatto che ci seguono, al fatto che ringraziano eccetera. Siamo grati noi del fatto che appunto ci seguite e pensate di poter portare via qualcosa da questo semplice nostro incontro settimanale. Grazie comunque e nel ringraziamento anche l'augurio di un buon cammino di avvento e una buona domenica.